Ho per voi una domanda. Cosa sarebbe successo se Moro fosse riuscito a scappare dalla prigione galattica in Dragon Ball Z, magari verso la fine della saga di Majin Buu? Andiamo oggi a scoprirlo insieme con il grande ritorno dei What If, ovvero storie di Dragon Ball che creo direttamente io che vanno a sconvolgere totalmente tutta la storia di Dragon Ball stesso. Mi raccomando, lasciate un mi piace ora se volete tanti altri What If qui sul mio canale YouTube ed iscrivetevi al mio canale. Attivate la campanella delle notifiche per non perdervi tutti questi grandi prossimi video. Ed eccoci qua nella selezione dei personaggi. Vi ricordo chiaramente che quelle che vedremo oggi sono delle mod. In descrizione qua sotto vi lascio i stand gaming sul quale potete trovare tanti giochi, Xenoverse 2 compreso, ad un prezzo veramente basso. Ci sono anche giochi in preordine. Andate a dargli un'occhiata. In ogni caso, come sapete, What If sono praticamente ciò che hanno più caratterizzato il mio canale nel corso del tempo ed oggi andiamo a rivederne uno veramente fantastico insieme. Infatti Moro è un personaggio che in Dragon Ball Super mi è piaciuto un botto, ma come sappiamo ci sono delle battaglie, ma questa era inevitabile, con Goku Ultraistinto e così via. Ma essendo ora nella saga di Majin Buu, o meglio, verso la fine della saga di Majin Buu, Goku è riuscito a sconfiggere Kid Buu, ma tendenzialmente non ha l'Ultraistinto, non ha poteri divini, anzi, all'epoca in Dragon Ball Z non c'era minima previsione di un Super Saiyan God e di un Super Saiyan Blue. Quindi come faranno i nostri guerrieri Z ad affrontare un colosso così potente e dal potere magico che sta per risvegliarsi? Lo scopriamo ora. Andiamo ad approfondire la narrazione di oggi. Infatti, cos'è che accade? Praticamente Moro riesce a liberarsi dalla sua prigione un bel po' prima del tempo, quindi decide che a tutti i costi deve andare a trovare le sfere del Drago, proprio perché gli viene detto che esistono queste sfere direttamente da uno dei servitori dell'esercito di Freezer, si libera molto prima del tempo e di conseguenza vuole andare su una Mech. Goku e Vegeta lo vengono a sapere tramite Re Kaio perché è proprio lì che Moro già sta andando a distruggere quelli che sono i vari villaggi per ottenere tutte le sfere e una volta raggiunta la destinazione, Vegeta decide di combattere per primo. Il solito, grande e orgoglioso Saiyan che a tutti i costi vuole dimostrare il proprio valore ed il proprio potere. Chiaramente, ragazzi, qui rispetto a Dragon Ball Super la situazione è totalmente differente e lo potete notare voi stessi. Moro prova più volte a colpire Vegeta e riesce a farlo in una maniera veramente spettacolare. Mano a mano, sembra che nel corso della battaglia riesca anche quasi a potenziarsi e questa è una cosa che stupisce davvero tantissimo Vegeta. Dovete considerare che Moro, in Dragon Ball Super, nel corso della battaglia appunto con Goku e Vegeta riesce ad ottenere veramente tanto potere assorbendolo non solo dal pianeta, dagli abitanti, ma soprattutto da Goku e Vegeta. In particolar modo da Vegeta che utilizza anche i poteri divini del Super Saiyan God, Super Saiyan Blue e così via. Quindi questo fa ricaricare molto più velocemente Moro stesso. Qui però c'è da dire una cosa, Vegeta stesso non ha questi poteri divini, quindi non permette a Moro di ricaricarsi in maniera così veloce. Quindi Moro stesso, di conseguenza, è leggermente più deboluccio. Poi non dimentichiamoci che il suo potere, quello là proprio magico, non è assolutamente al 100%, anzi è molto basso al momento e quindi, proprio per questo motivo, Vegeta, proprio per questa cosa folle, riesce, non dico a tenere testa a Moro stesso, ma nel complesso riesce comunque a dargli dei piccoli colpi. Nonostante ciò però, Moro, come vedete ora è già nella sua forma un attimino leggermente più ringiovanita, di conseguenza sta riuscendo ad assorbire veramente tanto potere e nemmeno a dirlo ragazzi, quindi Moro si è trasformato. Io non avevo previsto assolutamente nulla, l'ha fatto tutto da solo e riesce quindi anche a sconfiggere Vegeta. È messo al tappeto, ovviamente ancora in vita. Moro, ora come ora, sembra essere veramente molto sicuro di sé, mentre, chiaramente, il nostro caro Goku non sta ancora combattendo, ma comunque sta osservando tutta la scena e si rende conto che c'è qualcosa che non va. Mano a mano, Moro stesso, sta diventando sempre più forte. Vegeta sembra notare relativamente questa cosa, lo nota un po', ma non gli sembra possibile, mentre invece Goku, come sapete, come succede anche in Dragon Ball Super, è un po' fermo, ma nota che effettivamente questo grande avversario si sta potenziando in una maniera veramente devastante. Quindi come fare tutto ciò? Come andare a risolvere la situazione? Interviene appunto Rekkaio a dare ulteriori spiegazioni di quello che è il potere di Moro, considerando che in questo caso, ragazzi, Merus non ha ancora fatto la conoscenza di Goku e Vegeta. Quindi due sono stati avvertiti da Rekkaio e semplicemente si sono poi diretti qua su Namek per difendere il pianeta. Non hanno minimamente coscienza di quella che è la pattuglia galattica, non sanno tutto quello che magari avrebbero dovuto sapere tramite Dragon Ball Super. Quindi due nel complesso sono solo qui per difendere il pianeta stesso, mentre Vegeta, occhio, si trasforma in Super Saiyan. Questa è una cosa veramente ottima che accade appunto tramite le mod stesse. Senza quelle modifiche, chiaramente i personaggi, soprattutto quelli lì controllati dal computer, ragazzi, non si potrebbero minimamente trasformare. Quindi Vegeta a quanto pare aveva in sé ancora un po' di energia e devo essere sincero la cosa mi stupisce perché non me l'aspettavo minimamente. Riesce addirittura a pararsi e a scagliarci via con un colpo di energia, quindi questo fa comprendere quanto effettivamente Vegeta sia non solo vabbè orgoglioso, ma soprattutto un grande Saiyan. Moro però un po' alla volta, come vedete, riesce a parare quelli che sono tutti i vari colpi del Saiyan e soprattutto riesce a girarsi in tempo per andare a difendersi e soprattutto andare a colpire quello che è il suo avversario, che prova comunque in tutti i modi a mettere al tappeto il caro divoratore di Mondi. Ed è proprio in queste fasi che Vegeta si sente effettivamente sempre più affaticato e Moro inizia a svelare quello che è il suo potere. Lui riesce appunto ad assorbire tutto ciò che è intorno a sé. Nel corso della battaglia Vegeta diviene veramente sfinito. La sua energia scompare totalmente, tant'è vero che non riesce più a trasformarsi in Super Saiyan. Il tutto sembra essere ormai perduto, ma chiaramente non ci dimentichiamo di lui. Non ci dimentichiamo di Goku, che non andremo a scegliere nella sua versione pattuglia spaziale. Assolutamente no. Andremo a scegliere quello che è il Goku di Dragon Ball Z. Quindi ragazzi, andiamo assolutamente a scegliere magari una delle versioni trasformabili in Super Saiyan di terzo livello, ma è qui che c'è un plot twist veramente particolare. Andiamola a vedere un pochettino insieme. Magari scegliamo questa versione di Moro Full Power che effettivamente è potenziato forse pure troppo. Eccolo qua. Ritorniamo anche su una Mac. E c'è da dire una cosa particolare. In questo universo alternativo, perché vi ricordo che questi sono universi alternativi in cui la storia di Dragon Ball va effettivamente a cambiare, Goku ha fatto un allenamento un po' diverso nel corso del tempo. O meglio, forse dovrei dire in una fase piuttosto specifica. Infatti, come sappiamo, praticamente sia Goku che Vegeta in Dragon Ball Super, o meglio Goku in Z, mentre Vegeta in Super sono andati sugli Hardrat per allenarsi e comprendere un po' come utilizzare e sfruttare nuove tecniche e controllare meglio il proprio ki. Perché appunto quello che fa su un... su un... sugli Hardrat Vegeta è proprio quello. Imparare a sfruttare al meglio il proprio ki. Riesce quindi ad utilizzare una tecnica veramente speciale. Quindi, occhio allo spoiler, praticamente la fissione spirituale forzata. Poi, non so in italiano la cosa come è stata tradotta, ma è una tecnica veramente incredibile che, giusto per riassumere un po' il tutto, permette in pratica ad un combattente di andare a ridistribuire l'energia. O meglio, restituire l'energia che Moro è riuscita ad assorbire ai legittimi proprietari. Quindi, nel corso della battaglia, ve lo posso dire finalmente ragazzi, Goku riesce ad utilizzare questa tecnica. Ma com'è possibile? Goku, in Dragon Ball Z, ma anche in Dragon Ball Super, questa tecnica non sapeva assolutamente utilizzarla. Beh, sappiate ragazzi che, in realtà, in questo universo alternativo, quando Goku è stato su Yardrath, ha imparato tantissime tecniche di Yardrath, e ora trasformiamoci anche in Super Saiyan di terzo livello, e di conseguenza, osservando appunto quella che è stata la battaglia con Vegeta, ha compreso qual era la tecnica giusta da utilizzare nel corso dello scontro. Quindi, mano a mano che va a combattere con Moro, riesce ad utilizzare praticamente la fissione spirituale, e di conseguenza ad indebolire sempre di più il proprio avversario. Questo mette Moro chiaramente in una condizione di estrema difficoltà, perché il suo obiettivo era riottenere potere, riottenere energia. E ora questo, ragazzi, non lo può fare assolutamente. Anzi, vi faccio notare come Goku, ora come ora, nella sua versione semplicemente in Super Saiyan di terzo livello, stia praticamente dominando lo scontro in una maniera veramente totale. Una cosa del genere, parliamoci chiaro, ragazzi, potrebbe essere effettivamente quasi impossibile. Ma vi ricordo che questa tecnica può essere imparata semplicemente andando sugli Hardrat. O meglio, Goku, essendo stato sugli Hardrat, l'ha potuta imparare all'epoca, quando è stato sul pianeta. E nella storia normale lui era riuscito semplicemente ad imparare una singola tecnica, ed era appunto quella del teletrasporto. Non aveva perfezionato il controllo del proprio chi e tutto il resto. Invece adesso, ragazzi, è riuscito a farlo. Occhio, perché qui potremmo fare anche una bruttissima fine. Andiamo con una bella Super Kamehameha e concludiamo definitivamente questa grande battaglia con un Goku che tramite appunto questa grande tecnica di Hardrat è riuscito, in pratica, a stendere Moro. Che, in questa fase, ragazzi, è credibile che possa essere sconfitto. Perché, per quanto potente, milioni e milioni di anni prima, ora il suo potere è veramente bassissimo. Ha dovuto attingere qualcosina appunto dal pianeta Namek. È riuscito ad attingere potere da Vegeta. Ma Goku, conoscendo quella tecnica speciale, è riuscito a ridistribuire quella che era l'energia, il ki presente all'interno del corpo di Moro, e ridarlo ai legittimi proprietari. Quindi Moro si è ritrovato praticamente senza energia, senza potere magico. Poteva magari provare a difendersi, ma un Goku Super Saiyan 3, al massimo della propria prestazione, è riuscito a sconfiggerlo in maniera totale. Questa cosa è credibile oppure no? Beh, ragazzi, questo è un universo alternativo. E soprattutto, questa storia è un what if. E nei what if, come dovreste ben sapere, tutto può succedere. Cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Che dire quindi? Guardate altri video presenti qua a schermo, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, altri what if, dai, arriveranno a breve, e alla prossima. Ciao!